Grazie per supportare il nostro canale. Con le promesse di qualche polemica per le difficoltà di accreditarsi per le proiezioni in sala. A Ridley Scott il premio Carrier Glory to the Filmmaker di Venezia 2021. Per poter assistere alle proiezioni e alle conferenze infatti, è necessario prenotarsi con tempi e modi ben precisi, purtroppo però nonostante i collegamenti tempestivi. Molti accreditati non sono riusciti a prenotare il posto per le proiezioni. E' successo anche a noi per diverse proiezioni e conferenze. Ma almeno per oggi vogliamo lasciare spazio ai film e alle star che sono già arrivare al Lido, la polemica la rimandiamo a domani. Tra le star che hanno già regalato bellissimi momenti, ci sono Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, bellissimi e innamoratissimi si sono concessi ai fotografi appena arrivati in Laguna. Crediti Photo et Kikapress. Crediti Photo et Kikapress.